Bene, buongiorno a tutti quanti voi. Domenica 20 maggio, sono raffreddato come se fossi in montagna a 10 gradi sotto zero. È anche vero che questa estate o questa primavera sembra allontanarsi. Vediamo se resistiamo a fare questa diretta, ma ci dovremmo riuscire. Sui giornali che cosa succede? Beh, insomma, succede quello che io avevo anticipato ieri. Vi prego di andare a vedere quello che abbiamo detto ieri alle 19, prima, sul mio video riguardo alla TAV e riguardo alla presa di posizione. Ciao Lorenzo, alla presa di posizione, Marco, mi dico se è rientrato, la posizione di Di Maio sul governo, che è una posizione che i giornali oggi titolano in maniera diversa. Di Maio torna, no TAV, è il titolo della stampa. Scure, Movimento 5 Stelle, su TAV e ILVA, questo invece è il titolo del Corriere della Sera. Stop ai lavori della TAV. Cioè, in realtà, quello che ieri è emerso è l'anima, diciamo, più pericolosa dal mio punto di vista del Movimento 5 Stelle, che non è tanto il reddito di cittadinanza e tutte quelle minchiate là, che poi si potranno, vedremo come fare, con quali risorse fare, ma la loro capacità di interdizione nei confronti di uno sviluppo di un paese che ha bisogno di svilupparsi il più possibile. Cioè, è il metodo della pecora. Abbiamo un problema con l'erba? Lo utilizziamo invece che il falciatore elettronico automatizzato 4.0, cosa utilizziamo? Le pecore, no? Con questo tipo di atteggiamento mentale, perché dobbiamo fare un buco per avere del gas in Puglia? Per quale motivo dobbiamo fare la TAV Torino-Lione? Perché dobbiamo utilizzare l'acciaio quando possiamo, e perché dobbiamo fare i terminalizzatori quando possiamo benissimo non avere, come possiamo dire, rifiuti? Ecco, con queste minchiate il paese si ferma. Il fatto che, e questo è il tema del video che vi invito a vedere, che ho fatto ieri proprio sul mio sito nicolavorro.it, per quale motivo Salvini a tutto ciò si presta? In realtà oggi sulla TAV Torino-Lione dicono che il costo del bloccare questa opera, utile o non utile che sia, ma tutte le opere pubbliche di grandi infrastrutture, anche le autostrade qualcuno sosteneva, non fossero utile. Poi si è visto quanto le abbiamo usate, la nostra strada del sole intendo. Bene, questa opera pubblica, bloccarla, costerebbe 2,3 biliardi di euro. Nicola, l'acqua pubblica, giusto o sbagliato che ne abbiamo votato nel 2011? L'acqua pubblica è una farsa, è un'ipocrisia, ma su questo ne parliamo in un altro momento. Intervista alla Camusso oggi su un fatto quotidiano che dice non mi piace il governo del giallo-verde, anzi siamo allarmati addirittura, io non sono allarmato, sono preoccupato, ogni governo ci dà delle infelicità, questo governo ci darà questa grande infelicità, cioè di un paese che si bloccherà. Allarmato è un'altra declinazione, ma comunque sia, dice siamo allarmati, però parla a gran parte del nostro mondo. Brava Camusso, il problema non è che questo governo parli a gran parte del vostro mondo, ma il vostro mondo non parla più al movimento della CGL. Alberto mi parla del Venezuela e i 5 Stelle, ha ragione, esistono altri argomenti, però insomma devi avere anche un po' pazienza, se avessi visto queste zuppe nelle settimane scorse, avresti visto che sono dei pochi che ha parlato del Venezuela, oggi ci sono le votazioni e di come Maduro e Chavez abbiano reso un paese inizialmente ricco e potenzialmente molto ricco, un disastro con le loro follie social marxiste che alcuni italiani, tra cui il Movimento 5 Stelle, tanto amano. Il debito pubblico però, questa è la vera obiezione che vi faccio, perché oggi sono due articoli, uno di Belpietro che dice attenzione alle coperture, lui che ieri non ha smontato il programma del Movimento 5 Stelle, della Lega, dice attenzione alle coperture, ma io invece vado a vedere un pezzo di oggi, fatto dal Corriere della Sera, in cui intervistano l'uomo che si occupa del debito pubblico in Italia, prima era questa signora cannata, adesso viene sostituita da questo Iacovoni, che sembra un settantenne, in realtà 40 anni, il quale ci ha parlato dell'ultima emissione che ha fatto questo BTP Italia, una emissione che è andata molto bene, hanno dovuto un po' alzare la cedola, di mezzo punti del 040 al 045, ma il punto fondamentale è che dice l'interesse degli investitori per il debito pubblico italiano, per i titoli di Stato, c'è ancora ed è fortissimo, inutile che diciamo stupidaggini. Certo, è fantastico quello che dice, sei un pessimo giornalista, io non so, ma perché perdi tempo? Tu sei un pessimo ascoltatore, ma vai al mare invece di ascoltare me. Comunque sia, questa intervista a Iacovoni ci dice che le ultime emissioni del titolo di pubblico ci sono andate bene, non così male, un po' di più le abbiamo dovute pagare, ma non è che questo disastro di cui i giornalici parlavano. Ma il punto fondamentale, ve lo ripeto, sul Corriere della Sera di oggi è il grafico dell'andamento del debito pubblico tra il 2000, negli ultimi dieci anni, tra il 2007, 2008 e il 2017. Bene, è passato dal 102% del PIL al 130%, cioè in questi dieci anni che abbiamo detto c'era Letta, c'era Monti, c'erano tutti i fenomeni, c'è stato Renzi, quello che volete voi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato il debito pubblico di 250 miliardi di euro, cioè 30% in più, e adesso stiamo rompendo le balle a questo governo per la loro tenuta sui conti. Beh, potremmo farlo negli ultimi anche dieci anni, posto che non mi sembra che ne abbiamo molto invece tenuti sott'occhio noi giornaloni attenti ai conti del governo giallo-verde. Io più che conti del governo giallo-verde, come vi ripeto, sarei più preoccupato del fatto che questi cazzoni vogliono chiudere ILVA e TAV, questo mi preoccupa di più. Non è allergia, oggi è proprio influenza. Alla ricerca del Premier è il secondo grande capitolo di oggi, e cioè sono tutti alla ricerca di questo uomo che possa andar bene a Mattarella, perché poi c'è quest'altra grande possibilità che oggi evoca, mi sembra, la verità, il piano per far fuori il governo, Lega, Movimento 5 Stelle. Si presentano con un candidato Premier, oggi molto in voga il nome di questo giurista, e il Quirinale glielo boccia, gli boccia il candidato e quindi si va al governo del Presidente. Io non so se questo avvenga, però insomma può darsi. Sallusti chiama questo governo senza Premier, siamo il governo di scherzi a parte, un po' ingeneroso, mettiamola così, comunque il giurista Conte è quello che secondo le previsioni oggi ha più chance di diventare Presidente del Consiglio, ma chi è questo Conte? Lo scopriremo nei giorni prossimi. Assemblea del PD, ragazzi non perdiamo tempo. Ieri è stato un gran casino, dovevano cercare di capire cosa era il futuro del Partito Democratico, devo dire che il futuro è piuttosto triste, visto che ieri hanno deciso di non decidere e di riconvocarsi fra un mese, nel frattempo Martina farà il reggente. Direi che la situazione del PD è tragica, un po' come quella del centrodestra, sia chiaro, perché il centrodestra mi sembra che sia del tutto evidente che non esista più, nonostante gli sforzi che fanno Salvini e Berlusconi ogni tanto per sentirsi, ma il centrodestra non esiste più, il PD non esiste più, esiste soltanto il Movimento 5 Stelle che ha ripreso la sua forza, diciamo, iversiva da vaffanculo, come si vede sulle questioni TAV, ILVA e giustizialismo. Più il centrodestra si rompe e più loro governeranno questo paese. Altra cosa favolosa è la storia di questo Iglesias, quello che c'è il codino, a parte il fatto taglio e testo codino, lui, fantastica storia di questo partito, Podemos, di comunisti radicali, populisti, insopportabili, spagnoli, lui sposato con la psicologa comunista, anche lei, due troppo, quelli che sarebbero no TAV, no ILVA, no niente, cioè il condensato di quello che a noi della zuppa non vorremmo mai mettere come ingrediente, criticano una settimana fa Cristobal Montero, perché lo critica Cristobal Montero, ministro delle finanze spagnolo, Podemos, cioè Iglesias, perché si compra un attico da 660 mila euro a Madrid, cosa fa Podemos e il suo leader? Quindi Iglesias e la sua mogliettina si comprano una villetta da 600 mila euro, si fanno fare il mutuo dalla cassa alla indipendentista e si comprano per la stessa cifra a cui avevano criticato il conservatore, si comprano la villetta con la piscina, c'è la foto oggi e il racconto di Stefanini sulla verità e mi sembra anche Serra, perché Serra diciamo è un pezzo inutile di Serra perché non ha il coraggio di dire quello che dovevi dire, e cioè che questi sono delle merde, cioè sono delle merde, parlano di ingiustizia, parlano di populismo, criticano gli altri, poi quando si tratta di loro si fanno la villettina con la piscina, con l'esdraio, l'esdraio, lui con il suo cazzo di, come si chiama, di, avete capito, di ciuffetto che si compra la sua villettina fuori Madrid con il cloro perché forse l'acqua arrivano le, stanno a controllare quanto si rovina l'acqua nella piscina, ma va a quel paese, meglio i miliardari che dimostrano di essere e non rompono le scatole, stupenda la storia di questa donna, vecchia signora mi sembra di macerata, ottantenne che muore e lascia tutta la sua eredità, 3 milioni di euro, sapete chi? A Berlusconi, allora io vorrei dire che se c'è qualche signora di 85, 90 anni senza figli, nipoti, come questa, non la lasciasse al cavaliere questa eredità, ha due opzioni, o la lascia a me così mi curo, sto scherzando, ma la lasciasse a qualcuno vicino che ha bisogno vicino a casa sua, ma al cavaliere 3 milioni di euro, ma come gli viene in mente di lasciare 3 milioni di euro a un miliardario come il cavaliere? Comunque è una sera talmente bella che oggi ne avrei parlato di più, ma sui giornali c'è soltanto una breve sul Corriere della Sera, ragazzi oggi sono messo proprio male, è Aquilana, scusami Lorenzo, Lorenzo Borgia mi aiuta, ho detto una stupidaggine, ho detto che era di macerata e invece è una ragazza, è una signora di 80 anni dell'Aquila, Cinzia dice li volevo io, Bianca dice ma non è una bufala? Eh non lo so, potrebbe essere una bufala adesso che me lo dici, boh, va bene, condividete questa zuppa se volete sapere tutto sulla TAV con una voce un po' diversa sul sito nicolaporro.it, vi do un grande saluto a Benedetto, Blair mi dice che è originario dell'Aquila e un saluto a tutti quanti voi, la storia della vecchina è una bufala dice Edoardo, Edoardo dice che è una bufala, vabbè, ciao! Ciao!